buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce guardateli bene i miei capelli biondi perché tra pochi giorni taglierò questi peli folti che ho in testa e scomparirà il colore giallo so che sarete molto tristi io sarò il più triste di tutti perché amo questo colore però i capelli stanno diventando troppo lunghi e non li sopporto sono scomodi allora taglierò i capelli so anche che i capelli corti più corti sono meno bello sono più attraente con i capelli leggermente lunghini però la comodità la sua importanza e comunque ricresceranno e poi sì io sono un bel figliuolo sono abbastanza carino però la mia interiorità è ancora più magnifica io da 1 a 10 fisicamente mi do un 7 interiormente a livello di cervello e di bontà d'animo 10 allora qualcuno mi si chiederà che se ne frega lo stesso mi piaceva dirvi cose di cui forse poteva anche non fregare nulla però oggi parlerò d'altro un tema fondamentale come sempre mi è stato proposto questo tema qual è la differenza quando una persona muore magari la tua ragazza muore oppure ti lascia alla fine in psicologia essere lasciati la fine di una storia considerata quasi un lutto viene descritta come un lutto qual è la differenza tra il lutto perché una persona tecara muore o il lutto perché ti lascia la storia finisce è un tema interessante e ci faccio un video sopra sopra questo argomento allora sicuramente se una persona muore tu vai incontro ad una sofferenza perché all'improvviso specialmente se la morte appunto inaspettata ti vedi quella persona scomparire e sai che non la rivedrai più se una persona ti lascia una storia finisce e sai che non la rivedrai più è vero di fatto non sembra essere molto diverso il tipo di lutto comunque è viva lei continua a vivere la sua vita ma per te non c'è più e quindi in un certo senso si può considerare simile la situazione anche io a volte l'ho pensato tempo fa poi riflettendoci bene ho capito che in realtà un po diverso è perché vi argomento la mia tesi perché innanzitutto quando una persona muore è la certezza assoluta che non la rivedrai mai più non ci sono dubbi su questo se invece ti lascia la storia finisce magari in quel momento non la vedi più ma chissà ti rimane quel senso di speranza di possibilità e anche se non hai speranze perché lei è stata chiara però non è certa la sua scomparsa come nel caso della morte quindi già questa è una differenza in più vorrei dire un'altra cosa è vero che quando una persona muore lei non vive più e quindi magari può essere dispiaciuto per il fatto che è morta perché la classica risposta che tanti darebbero è questa ok ma tu se gli volevi bene sei triste per lei se è morta se ti ha lasciato sei triste però proprio perché le vuoi bene vuoi continuare continui a vivere e a gioire però a me questa sembra una risposta molto sterile sapete perché proprio perché la che la mia visione della vita innanzitutto si è morta non l'hai uccisa tu ovviamente togliamo questa possibilità è vero che se lei è morta non può più gioire delle dei piaceri della vita e non ha più una vita però nemmeno soffre c'è una persona morta se la tua ragazza muore se la tua ex è morta lei non sta soffrendo non è una condizione di sofferenza ok qui non c'è il discorso vabbè se ti ha lasciato e continua a vivere sicuramente è felice o può essere felice se è morta invece non è felice certo non gode della felicità ma non è neanche in una situazione di tristezza o di agonia quindi secondo me come risposta è un po' sterile guarda preferisco preferisco che dinanzi a due prospettive che lei sia vive mi abbia lasciato rispetto al fatto che sia morta perché altrimenti da morta vuol dire che ha sofferto no da morta una non soffre massimo soffrono i suoi cari mi può dispiacere per loro se magari li conosco so che soffrirebbero tantissimo soffriano tantissimo però partendo dal soggetto è stato lasciato se muore soffri perché morendo non c'è più se ti lascia non la vedi più soffri perché non c'è più quindi è questo per questo che mi è stato chiesto questo video ok dal punto di vista di colui che viene la che perde con la ragazza qual è la differenza lei non c'è più ed è morta quindi stai male perché è morta perché perché stai male per vede il fatto che è morta che lei non può più vivere ovviamente stai male per il fatto che è morta perché manca a te ma manca a te anche se ti lascia non la vedi mai più quindi rispondere beh però preferisco che mi lasci rispetto a chi muoia è un po' sterile come risposta perché da morta comunque non soffre sarebbe diverso se l'alternativa è ti lascia e quindi tu non la vedi più oppure non muore ma vive troce sofferenze si trova in una situazione di sofferenza totale e non ha più a che fare con te ecco dinnanzi a queste due possibilità se tu eri capace d'amare sei capace d'amare preferisci che ti abbia lasciato e non soffra rispetto al fatto che si trovi in una situazione in cui è in preda di agonie in entrambi casi magari non è più nella tua vita ma ti dispiace se soffre stai male se soffri se ami sei devastato per il fatto che soffre e quindi preferiresti semplicemente che ti abbia lasciato ma non soffre anzi felice però non è la stessa cosa che nella prospettiva della sua morte perché da morta non soffre quindi in realtà quello che si potrebbe rispondere sapete che cos'è è un'altra cosa ovvero sapete quella differenza tra una ragazza che muore o che ti lascia è che se muore può essere più difficile accettarla se muore soprattutto in tenera età non parlo di una morte a 95 anni tu e 99 anni lei magari tu e 30 anni lei 25 muore perché è più difficile da accettare perché tu ti trovi senza di lei sapendo che non la rivedrai mai più non potrai più vivere quelle gioie del vostro rapporto e se non fosse morta se non le fosse capite quella malattia quell'incidente lei sarebbe lì ancora con te avrebbe vissuto altri momenti con te e avrebbe voluto lei oltre che te vivere quei momenti e quindi è forse un senso di ingiustizia anche se poi non è un'ingiustizia perché la vita non è un'ingiustizia semplicemente così è siamo noi che la interpretiamo come una ingiustizia ma in realtà non c'è mai stato promesso niente però ecco più difficile da accettare perché se non fosse morta lei era lì che avrebbe voluto vivere altri momenti con te se invece ti lascia ti lascia lei è vero che il rapporto non c'è più e ti manca ma l'ha voluto lei dipende da lei e un rapporto ha senso di esistere quando entrambi vogliono quel rapporto quindi nel momento in cui ti lascia sicuramente è dispiacere se tu avresti voluto continuare però non c'è quell'appiglio lei non voleva più la storia con te ed è la cosa più importante il fatto che entrambi vogliono vogliono una storia nel caso della morte magari lei avrebbe voluto per altri 30 anni vivere quei momenti con te ma ti è stata strappata via la possibilità di vivere dei momenti con lei per via di quell'incidente di quella malattia quindi c'è un forse un senso di non so di rosicamento in più di frustrazione in più secondo me tra le due cose avete capito cosa voglio dire spero di sì e più un'altra cosa e questa è la cosa fosse più importante di questo video quindi spero che molti siano arrivati fino a questo punto mi rendo conto che quando faccio questi video quasi tutti è però alle volte raggiungo delle vette di riflessività che mi faccio paura da solo si sa per scontato che se una persona ti lascia una storia finisce allora non la rivedrai mai più e perché si dà per scontato questo perché spesso accade così molto spesso che cos'è la fine di una storia d'amore un addio per sempre insieme due anni insieme cinque anni insieme dieci anni poi lei o lui si fa la sua vita e non esiste davvero più scompare in quel senso è un lutto che qualcuno può vedere più o meno simile alla morte ma le differenze in parte ci sono ve l'ho detto prima ma attenzione ma perché accade questo perché abbiamo una concezione d'amore e relazione di coppia scandalosa ed è per quello che io metto in discussione la concezione classica se cambiassimo concezione d'amore tipologia di relazione il fatto che un rapporto cambia il fatto che un rapporto muta non comporta necessariamente quel senso di abbandono mettiamo che due persone si piacciono stanno bene insieme c'è dell'eros poi sentono che mano a mano le cose vengono un po' meno l'interesse viene meno vengono fuori altri aspetti caratteriali dopo magari vent'anni e non sei più felici insieme allora si preferisce cambiare vita la cosa migliore è quando entrambi sono d'accordo però può valere si può arrivare a questa decisione anche se una sola persona pensa questo no? e anche quello che viene lasciato magari è d'accordo ok sono talmente triste che non vorrei che le cose fossero queste non vorrei che la realtà fosse questa però effettivamente se tu non sei felice con me non voglio trattenerti bene ma in un mondo più sano il fatto che magari lei poi ora cambierà alcuni aspetti della sua vita e tu non sarai più al centro della sua vita non significa che per forza debba mutare in senso rivoluzionato tutto certo se vi scanare dalla mattina alla sera e vi odiate in quel caso è inevitabile ma nei casi in cui comunque ci si vuole bene tanto per semplificare il rapporto non è così dannoso lei potrebbe anche iniziare un rapporto con un'altra persona e magari appunto non vedere in voi più una priorità però potreste anche vedervi tutti i giorni o un giorno sì un giorno no in quel senso dove sarebbe l'abbandono il problema qual è? che in questa concezione vi cito solo un aspetto se lei per esempio si fidanzasse con un altro o si sposasse con un altro magari oltre che lei è il marito nuovo il fidanzato nuovo stesso che direbbe no tu il tuo ex non lo puoi più vedere o se sì magari in maniera blanda che fa lo rivedi tutti i giorni non l'accetterai mai e le donne o gli uomini pur di non perdere il nuovo partner magari assecondano questa cosa ed è terribile ma la colpa è di come si vivono le relazioni se ci fosse più maturità più apertura mentale più tolleranza ok vivi una nuova storia anche in senso classico attenzione perché lasciam perdere la mia visione l'ideale sarebbe la mia visione aperta ma mettiamo che è troppo difficile per i più ok rapporto esclusivo rapporto monogamico quindi non farai più sesso magari con il ragazzo precedente ma lo puoi vedere anche spesso puoi andare a casa sua magari garantisce al tuo marito o al tuo fidanzato non andrò a letto con lui te lo prometto nel momento che accadesse non rispetti questo patto lui magari ti lascia però te lo promette amore rapporto di qualità e anche fiducia ti deve credere in quel senso ok il rapporto cambia ma non c'è quel senso di lutto invece nella maggioranza dei casi che siano fidanzamenti che siano matrimoni davvero dall'oggi al domani quella persona in molti casi scompare come se fosse morta ma vi pare accettabile è viva ma è come se fosse morta perché in questa società i rapporti sono compartimenti stagni o uno o l'altro e quando c'è nell'altro l'altro non deve esistere più e questa cosa viene spacciata per rispetto beh no ma se tu mi ami se tu vivi una relazione con me è questione di rispetto che non vedi più l'ex no se mai siamo in un'ottica di monogamia che non trombi più con l'ex che non baci più l'ex ma perché non puoi vederla ma che roba è quindi molto del senso di lutto che subentra dopo la fine di una relazione è per via della concezione dominante della concezione monogamica dominante e si potrebbe a mio avviso anche rimanere figli di una monogamia ma aggiustandola perlomeno quella monogamia sarebbe possibile mantenere la monogamia che comunque di per sé al razionamento male non mi piace però la potremmo anche mantenere io stesso ho fatto un video recentemente in cui ho detto potrei andare incontro di una ragazza che mi chiede l'esclusività però rendiamola un pochettino più umana e profonda quella monogamia altrimenti è cacca davvero se ti dice quel mio ex cosiddetto ex è una persona importante per me io non ci andrò più a letto perché sono monogama sono monogama voglio essere monogamica con te bacerò e andrò a letto solo con te ma lo voglio rivedere perché è una persona per me importante significativa non voglio che tutto vada in fumo e questa cosa deve essere possibile anche in una monogamia una monogamia decente un po' aggiustata deve permettere questo purtroppo non avviene quindi il senso di lutto non è un qualcosa di scontato che per forza deve esserci se il rapporto con una persona cambia c'è quel senso di lutto perché per come è costruita la nostra società a livello di relazioni davvero se arriva un altro tu quasi non esisti più sì a volte si dice rimaniamo amici ma poi rimaniamo amici e sentiamoci una volta all'anno è una vergogna ma è colpa ripeto di come l'uomo ha costruito la società e la cosa vergognosa è che si esalta pure questo modello definendolo vero amore se arriva qualcuno come mister dichiarista che vi propone o una visione del tutto alternativa o una visione di monogamia aggiustata Enrico ma quello che dici non ha senso non ha senso la vostra visione vergognatevi poi posso capire hai delle paure magari se rivede l'ex succede qualcosa ma dagli fiducia se io mi frequento con una ragazza e lei ha delle persone importanti nella sua vita con cui ci sono anche delle cose sessuali magari all'inizio posso avere soprattutto nel primo periodo un po' di paure di ansia di gelosia ma sono contento per lei se è contenta nel poter avere quella persona ancora nella sua vita poi se mi promette fedeltà e per me quella fedeltà è importante e non la mantiene allora ne traerò le conseguenze ma è vergognoso costruire una società in cui una volta che si dice guarda non stiamo più insieme nel senso effettivo del termine quasi non si esiste più gli uni per gli altri è una vergogna quello è accettabile solamente se il rapporto è diventato davvero devastante non vi sopportate vi scannate allora è ovvio anche se devo dire che alle volte ci si scanna ci si fa del male proprio perché magari o si vive insieme e non si è adatti a farlo e mutando il rapporto vendendosi magari un po' meno in contesti diversi può darsi che quello che prima era scannamento può si trasformare in un rapporto invece più più funzionante quindi anche in quei casi lì potrebbe essere non sempre vero che è necessario l'abbandono totale bene io penso di aver fatto un bel video di aver tirato fuori belle considerazioni fatemi sapere nei commenti se condividete tutto quello che ho detto se siete d'accordo solo in parte e argomentate ovviamente la vostra posizione condividete in giro questo video scusate il mio gesticolare a volte non mi trattengo e niente davvero fatemi sapere il vostro parere un abbraccio se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina Patreon cliccare in alto a destra su become a Patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1 2 5 10 20 o 50 euro al mese il gruppo Whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda a Grazie a tutti.